Bentornati, io sono Elietta Martorana e benvenuti se è la prima volta che ascoltate i miei podcast. Parliamo di Karl Marx. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare un commento, a mettere like e a seguire anche gli altri podcast. Karl nacque nel 1818 a Treviri, in Renania, in Prussia, da una famiglia ebrea ma non praticante. Si laureò in filosofia e si dedicò al giornalismo politico. La prima pubblicazione, la Gazzetta Renana, viene immediatamente chiusa. Marx è costretto ad abbandonare la Germania e a recarsi a Parigi, dove incontra il grande amico della vita, Friedrich Engels, figlio di uno dei più ricchi industriali della Germania. Divenne il suo più caro amico e collaboratore. Sostenne finanziariamente Karl e la sua famiglia nei momenti più difficili. A Parigi scrive manoscritti economico-filosofici del 44, opera pubblicata solo postuma. Viene espulso dalla Francia per le sue idee, si sposta così in Belgio e appena arrivato lì viene arrestato per un breve periodo. In Belgio scrive nel 1845 le tesi su Feuerbach e l'ideologia tedesca, viene poi espulso anche dal Belgio e torna in Germania. Nel 1848 scrive il celebre Manifesto del Partito Comunista, opera pubblicata poi a Londra. Nel 1849 viene espulso anche dalla Germania, torna di nascosto a Parigi e raggiunge poi Londra, in Inghilterra, patria che lo spiterà per il resto della sua vita. In Inghilterra scrive per la critica dell'economia politica e nel 1864 è tra i fondatori a Londra della prima internazionale, la prima associazione internazionale dei lavoratori. Nel 1876 pubblica il primo libro Il Capitale, gli altri due saranno postumi, dopo la sua morte avvenuta in Inghilterra nel 1883. Il marxismo non è solo una dottrina economica, né solo sociologica o filosofica, ma è un insieme di tutte e tre. È un'analisi globale in tutti i suoi aspetti della società borghese e delle sue contraddizioni. Il carattere fondamentale del marxismo è l'unità di teoria e prassi. La dottrina di Marx è una teoria capace di spiegare la società borghese per spronare gli uomini ad agire, ad impegnarsi politicamente per trasformare la società, eliminando ogni forma di ingiustizia sociale e realizzare il comunismo. La filosofia di Marx è la filosofia dell'azione. La teoria è un'esortazione alla prassi. L'ultima tesi su Feuerbach afferma che fino ad ora i filosofi si erano limitati ad interpretare il mondo ed era giunto il momento di trasformarlo. Quindi con contesta l'equazione di Hegel secondo cui ciò che è reale è razionale, per Marx questo modo di pensare è folle. Ciò che è reale deve diventare razionale grazie alla prassi e alla nostra azione. Non è vero che tutto va bene, ma tutto deve andare meglio grazie al nostro impegno. Riprende quindi le idee luministe e non accetta neanche la filosofia di Schopenhauer. Per quanto riguarda Karl Marx questo podcast termina qua. Vi invito a lasciare un commento, ad iscrivervi e a partecipare anche attivamente ai podcast.